A Cavezzo, il comune di circa 7.000 anime, a due passi da San Felice sul Panaro nel Modenese, hanno perso la vita tre persone, due rimaste sotto un capannone industriale. Chi poteva a Cavezzo ha piantato le tende sull'erba, nei giardini delle case, oppure in aree verdi della pianura modenese, che nessuno ha voluto abbandonare, anche se la terra continua a tremare e qualcuno, più timoroso, a pochi giorni dalla scossa forte, dorme ancora in macchina. A Cavezzo è stato allestito il Campo Abruzzo, gestito dalla Protezione Civile della Regione, in collaborazione con i volontari dell'ANA abruzzese, l'Associazione Nazionale Alpini, che si occupa del servizio mensa, dove molti cittadini si recano a mangiare per la mancanza del gas nelle loro abitazioni. Tutto un déjà vu, i bambini che giocano sull'erba e grandi che tra una scossa e l'altra di assestamento, secondo quanto dicono gli esperti, vanno a lavorare, poi tornano a mangiare e a passare la notte nelle tende, che danno senza dubbio più sicurezza e tranquillità al sonno. Silvio Liberatore responsabile, emergenza sisma della Protezione Civile Abruzzo, qui a Cavezzo, nel Modenese, per dare assistenza alla popolazione colpita dal terremoto. Allora, qual è la situazione? La situazione la conosciamo bene, ci siamo passati tre anni fa, sono immagini già viste, facciamo il nostro dovere, cerchiamo di aiutare la gente che in molti casi ha oltre aver perso, aver avuto un lutto, ha perso tutto, cerchiamo quindi di dargli il massimo sostegno e di aiutare, che questa è la vera attività di Protezione Civile. Qual è la situazione nel Modenese rispetto a quella che abbiamo vissuto all'Aquila? Ma ci sono delle differenze, dopo il fatto che soprattutto sono piccoli paesi colpiti, non era una città capologo come l'Aquila, quindi diciamo è delocalizzata l'emergenza in tante piccole frazioni, quindi in tanti piccoli paesi completamente sfollati. Parliamo anche con Giampiero Antonetti, capocampo, qui a Cavezzo della Tendopoli, allestita dalla Protezione Civile della Regione Abruzzo, quanti sono gli sfollati? Allora, attualmente abbiamo circa 180 sfollati e contiamo nel giro di stasera al massimo dono di poveriggio di arrivare a 300 e quindi chiudere il campo perché è il massimo numero consentito al momento. Dovevamo restituire quanto abbiamo ricevuto, ci dicono i volontari dell'ANA, le prese con la sistemazione dei servizi di prima necessità e la cura dei terremotati emiliani che sembra abbiano già superato la fase d'emergenza. A Cavezzo, infatti, sono partite già le prime demolizioni.